La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino senegalese regolare sul territorio italiano e incensurato, colto nella flagranza del reato di estorsione con il metodo del cosiddetto cavallo di ritorno. Lo stesso è stato inoltre denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. Un uomo si è presentato presso gli uffici di polizia denunciando il furto del proprio telefono cellulare subito il giorno precedente. La vittima riferiva inoltre che grazie a un'applicazione installata sul proprio telefono era riuscito immediatamente a individuare il luogo dove lo stesso era stato occultato, ovvero un'abitazione in zona San Cristoforo, prendendo contatti col responsabile del furto. Il malvivente aveva ammesso il possesso dello smartphone pretendendo la somma di 100 euro per la sua restituzione. L'uomo, non volendo prestarsi all'estorsione, si è rivolto alla polizia. In effetti, all'appuntamento per la consegna del denaro si sono presentati poliziotti delle volanti, i quali, non appena l'estortore ha aperto la porta, hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione immobilizzando il malvivente. Gli accertamenti effettuati nell'immediatezza dei fatti hanno permesso di riscontrare quanto dichiarato dalla vittima. All'interno dell'appartamento, infatti, è stato rinvenuto il telefono cellulare rubato il giorno prima, insieme a numeroso materiale ritenuto di provenienza furtiva. 47 smartphone, 3 televisori di ultima generazione, 3 orologi interattivi, 59 cavetti USB, una PlayStation, una cassa Bluetooth, una stampante, 6 tablet, 2 notebook, diverse borse da donna ancora confezionate, oltre a vari documenti di identità, carte bancomat e permessi di soggiorno, inoltre anche la somma di 600 euro in contanti. Tutto il materiale rinvenuto è stato prontamente sequestrato, mentre la senegalese è stato tratto in arresto e su disposizione dell'APM di turno, condotto presso il carcere di Catania a Piazza Lanza in attesa dell'udienza di convalida.